Buongiorno a tutti, siamo in una fase di mercato molto delicata perché abbiamo da una parte la banca centrale americana che probabilmente da gennaio a febbraio potrebbe ridurre l'acquisto di titoli di Stato sul mercato americano, quindi causando degli impatti sul mercato obbligazionario e su quello valutario, dall'altro una situazione del tutto opposta e cioè la banca centrale del Giappone che sta continuando a immettere liquidità nel sistema e nell'economia. Siamo qui in redazione con Alberto De Casa, analista di Active Trades per i mercati valutari, che ci può fare un po' il punto della situazione sui mercati e spiegare se questi due movimenti contrastanti da una parte, ripeto, la banca centrale americana, dall'altra la banca centrale del Giappone che continua ad acquistare titoli di Stato, possono creare degli effetti particolari sia sul mercato obbligazionario che su quello valutario. Prego Alberto. Sì, senz'altro è una fase estremamente delicata sui mercati in cui le due banche centrali importanti stanno prendendo due strade differenti, quindi abbiamo da un lato il Giappone che ha preannunciato, si è intuito come andrà a incrementare quella che è la politica monetaria espansiva in essere oramai già da più di un anno, quindi dalla fine del 2012. Viceversa gli Stati Uniti, rimane aperta la questione del nodo Stati Uniti, il nodo tapering, quindi la riduzione dello stimolo monetario attualmente ferma 85 miliardi di dollari ogni mese. Bisogna un attimo cercare di capire le tempistiche perché la Fed e tantomeno la banca giapponese non sono state chiare su quelle che saranno le modalità ma da un lato di rientro e dall'altro di aumento delle politiche monetarie. Pertanto analizzando il quadro americano sono ormai mesi che la parola tapering è entrata nel vocabolario di tutti i giorni degli analisti, quindi si cerca di comprendere quelle che sono le prospettive, quelle che sono le modalità, quindi in quale modalità avverrà questo rallentamento del piano di acquisti, sarà gennaio-febbraio o bisognerà attendere di più? Questo è un po' quello che si stanno chiedendo gli operatori se questa iniezione di liquidità continua ad arrivare sui mercati o viceversa se avremo un rallentamento a breve. D'altro canto c'è l'Oien dove la banca giapponese sta intervenendo andando a svalutare l'Oien, non dimentichiamo che un anno fa l'Oien era quotato poco sopra 100 nei confronti dell'euro, adesso siamo a 139, quindi ha perso più del 35%, viceversa anche il dollaro si è mosso in una situazione simile, così come il cambio sterlina contro ien. Questo è un po' il quadro generale sui mercati. Ecco Alberto, proprio alla luce di queste ultime valutazioni che facevi sulle valute, quali sono secondo te le prospettive dell'euro e del dollaro a seguito di queste operazioni diciamo in arrivo della Federal Reserve americana, potrebbe esserci un rafforzamento, un debolimento dell'euro e anche sull'effetto esportazioni, quali potrebbero essere gli effetti? Hai toccato due temi chiave, da un lato l'euro dollaro e dall'altro le ripercussioni per l'economia reale, esatto. Quindi questo euro dollaro che si mantiene forte a 1,35, 1,36, molto al di là di quello che viene detto essere il fair value, il valore reale su questo cambio. Quindi la situazione è questa, con un euro dollaro forte ma che non può durare in eterno anche perché prima o poi gli Stati Uniti daranno avvio a questo tapering e questo dovrebbe portare a una rivalutazione del dollaro. Quindi l'euro dovrebbe finalmente scendere un pochino, le prospettive sono per un euro che potremmo vederlo alla fine dell'anno, nei primi mesi del prossimo anno, avvicinarsi quantomeno verso 1,32, 1,33, se no addirittura 1,30. Quanto resta da capire sono appunto le modalità e quella che sarà un attimo la situazione europea perché nell'ultimo taglio dei tassi di Draghi ha anche lasciato aperte le prospettive dicendo che non è finita qua. Quindi bisogna vedere un attimo cosa fa la Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea ha già fatto capire che la soglia 1,36, 1,38 è sicuramente 1,40, quindi se l'euro dollaro va sopra 1,38, 1,40 il nostro export è troppo danneggiato quindi Draghi sarà costretto a intervenire. Intervenire con quale tipo di misure potrebbero aspettarci? Il taglio dei tassi oramai siamo arrivati alla fine perché siamo arrivati appunto a zero. Non si possono escludere tassi negativi? Non si possono escludere tassi negativi però bisogna stare attenti anche a evitare di finire in logiche deflazionistiche che poi sono quelle che hanno caratterizzato la situazione giapponese per tre lustri, quindi bisogna cercare di evitare anche di arrivare su questi problemi. Senti, parlando adesso di mercati, abbiamo l'America che continua a macinare record sia con il Dow Jones che continua a superare i nuovi massimi, che è l'indice industriale, lo ricordiamo, e anche il Nasdaq, il listino tecnologico che è tornato sopra i 4 mila punti se non sbaglio, quindi ai livelli addirittura precedenti la crisi economica. In Europa chi si è mosso con maggiore evidenza è il DAX, cioè l'indice di Francoforte che ha continuato a correre per tutto l'anno. Abbiamo invece Milano che è andata benino ma viaggia poco sotto i 20 mila punti ed è ben lontano rispetto ai 40 mila punti che va toccato nel 2007. L'anno che verrà, il 2014, potrebbe essere un anno di ripresa non solo economica ma anche di rilancio di Piazza Affari? Prego. Eh, bella domanda, allora, senz'altro l'indice italiano ha patito, bisogna innanzitutto capire perché il DAX, perché l'indice americano, quindi il Dow Jones ha macinato questi 40 nuovi record, perché il DAX ha superato i 9 mila punti, quindi una serie di record all'estero che non sono stati corrisposti da record del nostro indice. Innanzitutto perché il nostro indice era, il paniere era riempito di, era sovrano, occupavano una parte estremamente importante i bancari e i bancari dal 2007 ad oggi hanno sofferto molto, hanno avuto una riduzione estremamente significativa, quindi questo è una prima parte, è un primo motivo chiave per cui possiamo vedere l'indice italiano su questi valori. Negli ultimi anni l'Italia ha anche patito crisi politiche, situazioni non chiare come quelle degli ultimi mesi e senz'altro hanno spinto gli investitori su altri indici, si è aggiunta poi in ultimo, negli ultimi mesi ancora la Tobin Tax che senz'altro non è stato un elemento che ha favorito una maggiore liquidità e non ha invogliato gli investitori esteri a tornare verso l'Italia, quindi questo è un po' il contesto in cui dobbiamo descrivere, in cui possiamo analizzare la situazione italiana attuale. Dopodiché ci sono possibilità di rilancio, di ripresa per l'Italia, senz'altro sì, anche se bisogna chiarire tutti i nodi che abbiamo fin qua definito, quindi queste sono le basi che direi per dire un indice italiano ancora al rialzo. Non dimentichiamo che l'indice italiano è arrivato anche intorno a 12-13 mila punti, quindi da questi valori abbiamo già avuto un buon 50% di ripresa. Certo. Bene, ora sempre in tema di mercati come Active Trades tu avrai anche il polso un po' di quello che stanno facendo i trader, su come si stanno muovendo, su come si stanno posizionando. Quali sono un po' le mosse, le loro operazioni in quest'ultima fase dell'anno sia sui mercati azionari e poi magari ti direi anche di dare un quadro anche su loro, bene il rifugio per eccellenza. Ma noi analizzando quelli che sono stati i volumi stradati, gli strumenti negoziati dai trade e di Active Trades emerge chiaramente che non sono insensibili a quello che capita sui mercati, quindi un Euro-Dollaro un pochino ingrabbiato fra 1,30 e 1,36, poca volatilità sull'Euro-Dollaro ha portato a un maggiore interesse dei trader sulla valuta, forse la valuta più, non emergente, ma la valuta più svalutata in questi ultimi mesi, sto senz'altro parlando dello Yen che ha perso 30-40% e noi abbiamo visto le transazioni sullo Yen crescere del 40-50%, ma come giustamente accennavi l'Oro, l'Oro che è iniziato l'anno a 1.600-1.700 dollari, adesso è a 1.250 dollari l'Oncia, quindi è stato un calo molto forte, è cresciuto molto l'interesse dei nostri trade anche per quanto riguarda l'Oro. In ultimo, lentamente sono ancora percentuali molto basse, ma ha maggior interesse anche per Platino, Palladio e gli altri metalli preziosi che abbiamo appunto iniziato a offrire. Stanno riscoprendo gli investitori. Ecco, una cosa a cui tengo a precisare, visto che parliamo di borse, di mercati dove comunque non sono dei giochi, non è che si parla di giocare in borsa, di farlo in maniera fai-da-te artigianale. Per chi vuole approcciarsi ai mercati, lo ricordo ci sono diversi gestori, banche, professionisti e non ultimo ci sono dei seminari di educazione finanziaria che vengono fatti da varie istituzioni finanziarie, non ultimo quella di Active Trade. Al proposito Alberto, mi dicevi che state organizzando delle cose per chi vuole appunto approcciarsi in un mercato azionale? Torino, Alba, Biella, una serie di tappe nel nord-ovest, a quella di Torino appunto vado a stenderti ufficialmente e le invito a partecipare. Bene, va bene, parteciperemo. Bene, ringrazio tutti per l'ascolto e do appuntamento a una prossima iniziativa sulle borse e i mercati. Grazie a tutti. Grazie, buona giornata. Grazie.